E questo invece è la SpiderFest, come è partito il dei due Spider? Card dead completamente Cosa si racconta in questo dei due? È partito tranquillo, siamo partiti da poco Non ho visto il gioco per il momento Però è partito da poco dai, ci andiamo ancora tutta la giornata Sono rimasto da solo perché il mio collega mi ha appena abbandonato Sì, è appena uscito la Chinelli in questo momento Sono rimasto solo io Solo tu del T-Snight? Eh sì, adesso proviamo Bisogna tirare su allora un attimo il film Sì, 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 23